ciao a tutti amici benvenuti su found out univide sunnest come potete vedere siamo di nuovo su uno schermo iniziano perché ottenga brutte notizie come se voi avete già capito nello scorso video vi avevo detto che forse il gioco e le mod saranno aggiornati cioè il forse il gioco sarà aggiornato con una nuova versione e infatti è stata proprio così come potete vedere qua c'è il nostro vecchio salvaggia è una manche onestamente a un buon punto come potete vedere il mondo qua inizia già molto più avanti se non sbaglio rispetto a qui potete vedere purtroppo non posso più giocare non ci posso più giocare perché si era cambiata le versioni sono state cambiate quindi cosa mi consigliate mi consigliate di fare di nuovo tutto da capo con mainclare o con quante o con qualche altra fazione come i minuti ma è proprio un esempio oppure fermare qui una serie e inizia un nuovo gioco ditemelo sotto nei commenti e che dire grazie per aver visto questa serie grazie per aver invitato tutti i consigli che potrete darmi ci vediamo sul prossimo video ciao ragazzi grazie